Qualche giorno fa ho pubblicato uno short in cui, rispondendo ad una vostra domanda in live, vi dicevo quello che penso su Andrew Tate. Penso che sia un essere umano disgustoso e quello che è successo mi ha lasciato... Chiudi la scena su lui basito. Avete presente quando gli youtuber aprono con la frase Io questo video non volevo farlo? Di solito è una cazzata. Ecco, invece questa volta io davvero questo video non volevo farlo. Al di là della risposta data durante la live, accorciata ed editata per diventare uno short, non reputavo che parlare di Andrew Tate potesse essere un buon uso del mio tempo, ma mi sbagliavo. Io lo sapevo che lo short avrebbe potuto suscitare qualche polemica, certo, ma quello che ho letto nei commenti mi ha seriamente spaventato. Tanti, tantissimi ragazzi e anche due o tre ragazze che non soltanto mi attaccavano e difendevano Tate, ma lo presentavano come il salvatore del mondo, un esempio positivo, un uomo eccezionale e profondo. Nei commenti ho cominciato ad argomentare e discutere, persino litigare, ma ho capito che c'era bisogno di qualcosa di più. Questo video è il mio tentativo di spiegarvi al meglio perché ritengo Tate e i suoi messaggi pericolosi e nocivi, rispondendo alle vostre obiezioni. Per chi non sapesse chi è Andrew Tate, si tratta di un creator, imprenditore, ex atleta e fenomeno di internet che è diventato famoso per le sue posizioni molto decise, diciamo, su tante tematiche delicate. Nel corso di questo video analizzeremo diversi suoi messaggi, sia quelli positivi che quelli, a mio dire, tossici. Ho diviso le contro-argomentazioni e gli attacchi che ho ricevuto in cinque gruppi principali. La prima e più frequente obiezione in assoluto che mi è stata fatta è di aver formato la mia opinione su Andrew Tate solo dagli spezzoni virali ricondivisi sui social. Partiamo con il rispondere che no, non è così. Certo che ho visto gli spezzoni virali, certo, ma ho visionato e ascoltato ore dei suoi contenuti integrali, tra il suo podcast, le interviste, i confronti, i video motivazionali, eccetera, eccetera, eccetera. Lavoro tutti i giorni sui social network e con i giovani. Non mi sono informato con disinteresse o solo per una vaga curiosità, volevo realmente capire che cosa avevo davanti. E allora ho guardato e ho ascoltato con attenzione. La situazione, purtroppo, con i suoi contenuti integrali non migliora. Anzi, ne parleremo. Prima di andare avanti, però, va detta un'altra cosa. La risposta a questa accusa di aver guardato soltanto gli short non si ferma a dire no, no, guarda che li ho guardati i contenuti integrali. No, bisogna fare anche un passo in più. Vedete, la levata di scudi immediata sul non devi giudicarlo da quei pochi secondi, lui è molto di più, suona tantissimo come una coda di paglia. Perché quegli spezzoni sono proprio ciò che lo ha reso famoso. Sono quello che i suoi adepti condividono. Quei messaggi controversi, esagerati, che ad una mente critica appaiono come una parodia cringe, a ragazzini in difficoltà appaiono invece perle di saggezza o sagaci espressioni di sarcasmo e diventano parte del loro modo di interagire col mondo, di parlare, di rispondere. E al tempo stesso, però, i suoi seguaci si sentono in dovere anche di dover giustificare quegli spezzoni, di mettere le mani avanti, perché lo sanno pure loro quanto possono essere problematici. Ma gli spezzoni di Tate sono una parte fondamentale del suo fenomeno, del messaggio che veicola, dell'effetto che fa sulla gente. E quegli spezzoni dicono molto anche della persona in sé, perché non sono costruiti a caso e non ne trovate di simili per altri personaggi di spicco, neanche fra coloro che condividono valori conservatori oppure che danno dei consigli simili o che si avvicinano a volte a posizioni come quelle di Tate. Sicuramente non trovate altri personaggi così trasversali nel passare tutte queste posizioni controverse. Non troverete spezzoni di Jordan Peterson che vi dice che la depressione non esiste, su questo poi ci torniamo, e che la tristezza va trasformata in rabbia. Non troverete spezzoni di Andrew Huberman che inneggia il valore dello spaccare facce per sentirsi meglio. Non troverete spezzoni di David Goggins che vi spiega che la donna deve stare zitta quando lo dice lui. Non troverete spezzoni di Joe Rogan che vi spiegano come sia figo bere mentre si è in palestra. Non troverete spezzoni di, che ne so, The Rock o Joko Willink che dicono cose del genere in quel modo. Non troverete spezzoni di gente di quel livello sul fatto che i veri uomini bevono solo acqua frizzante e hanno monopolio indiscusso sulla sessualità delle mogli o delle fidanzate. E non li troverete perché alle persone serie, in buona fede, anche se magari di posizioni conservatrici, non viene neanche in mente di dirle quelle cose. Perché sono stupide, orribili, pessime, offensive, pericolose per le menti suggestionabili che le ascoltano. Questo è il motivo per cui, anche in questo video, vi metterò degli spezzoni di quello che Tate comunica. E sì, quegli spezzoni hanno un valore, anche se sono degli estratti da video più lunghi. Hanno un valore perché quelle cose sono state dette, sono state diffuse, sono state pensate da quell'uomo per lo scopo preciso di alimentare il suo personaggio. Perché lo sa, cinicamente, che lo faranno odiare da molti e amare alla follia da altri. Nota a margine, ma poi tutta sta gente che mi attacca, mi insulta e mi accusa di giudicare solo sulla base di video brevi estratti da contenuti più lunghi, non sta facendo esattamente la stessa cosa reagendo allo spezzone di una mia live trasformato in uno short. Allora lo vedete che anche gli estratti hanno un valore quando si tocca la vostra di sensibilità? Nei contenuti più lunghi, poi, nella maggior parte dei casi, Tate di fatto parla del nulla. Alterna messaggi motivazionali un po' standard, anche positivi, eh, ci torniamo fra poco, a sparate assurde, ad affermazioni impossibili da falsificare, a marchette, a sfoggio e vanterie, a balle pseudoscientifiche, a sproloqui lunghissimi, privi di coerenza interna. Parla, 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 parla di tutto e di nulla. Ipnotizza lo spettatore poco critico con un eloquio complesso ma vuoto. Spiega e rispiega sempre gli stessi tre concetti, critica la modernità e i valori che reputa sbagliati, banalizzandoli però e costruendoci dei castelli di carte. Tate è bravissimo a spacciare banalità e concetti triti e ritriti per profondissime riflessioni intellettuali. Fate un tentativo, provate a comparare un podcast di Tate con uno di Sam Harris, di Lex Friedman, di Andrew Uberman, di Eriko Brett Weinstein, di Tim Ferriss, ma anche di Jordan Peterson stesso, che pure a me non piace. La differenza è quella che c'è tra una patina dorata e un lingotto d'oro massiccio. Tutto questo discorso sugli spezzoni si lega poi anche all'altra obiezione simile che ho ricevuto. Ma non capisci? Quella è ironia? Stava trollando? Faceva il personaggio? Non sai distinguere quando è serio da quando è sarcastico? No, non funziona. Per tre motivi. Uno, perché l'ironia, il sarcasmo e la comicità hanno un tempo, un luogo e un modo. Tate non è un comico sul palco. Non parla coi tempi comici. Non si rivolge a un pubblico che è lì e ha pagato per divertirsi. Mescola messaggi seri a messaggi da troll e lo fa senza soluzioni di continuità. Due, la sua presunta ironia è indistinguibile nel tono e nell'approccio dalla sua serietà. Parla sempre nello stesso modo ed è palese che il tentativo non è quello di far ridere bensì quello di far godere i suoi seguaci e incazzare i suoi critici alimentando controversia che poi lui potrà monetizzare. E tre, perché tanta, tantissima gente invece le prende sul serio quelle cose e lui lo sa. Siamo responsabili di ciò che diciamo e dell'effetto che ha sulla gente. Scusate, com'è che nessuno ricondivide come spezzoni motivazionali le battute di Ricky Gervais sui nazisti? O il black humor di James Carr? Perché è palese che quella è comicità, è un pezzo teatrale, è un eccesso scenico. Ma con Tate tutto questo non è per niente chiaro e le sue sparate diventano poi dei tormentoni a cui la gente si aggrappa in modo tutt'altro che ironico. L'ironia del resto è sempre la scusa con cui i personaggi controversi, i guru problematici, gli estremisti si difendono. Sei tu che non capisci io, scherzavo eh? Ma intanto quelle cose le hai dette però, migliaia di persone le hanno prese sul serio, hai alimentato un clima già polarizzato e ci hai lucrato sopra. Il secondo gruppo di obiezioni che ho ricevuto nei commenti riguarda la domanda provocatoria su che cosa abbia fatto poi di male Tate all'atto pratico. Insomma, mi sfidano a indicare qualcosa di negativo concreto fatto da lui. Eccoci qua. Possiamo riassumere i problemi che Tate genera in tre macro aree. Uno, come fa soldi. Tate è diventato ricco facendo quattro cose, tutte e quattro, quanto meno discutibili. Tutte e quattro che presentano un pessimo esempio e un pessimo modello per i ragazzi che lui vorrebbe ispirare. La prima è stata gestire un business di camgirl erotiche. Ora, io personalmente non ho giudizi negativi da esprimere sulle ragazze che fanno quel tipo di attività, ma invece ho tutto il giudizio negativo del mondo su chi ne gestisce l'attività come se fosse una sorta di pappone virtuale. E attenzione, non sto dicendo necessariamente che quella sia una cosa illegale. Tate è anche indagato per attività illegali, piuttosto gravi tra l'altro, ma non ha ancora ricevuto condanne definitive e dunque di quello rimane innocente fino a prova contraria. Ma un'attività può essere legale e fare schifo lo stesso. E a proposito di cose che fanno schifo, la seconda attività che lo ha reso ricco è legata ai casinò e al gioco d'azzardo. Altro tema estremamente problematico e moralmente controverso specie verso i ragazzi e i ragazzini. La terza fonte di denaro è tutto il mondo dei metodi di guadagno online. Un po' meno chiaro qui. Ma c'è il dropshipping in particolare. Il dropshipping selvaggio per come andava soprattutto alcuni anni fa consisteva sostanzialmente nel comprare prodotti di merda dal mercato asiatico e rivenderli a dieci volte il prezzo sul mercato occidentale con le ads. Sto banalizzando, sì. Ma di sicuro questa non è un'attività di costruzione di valore e di prodotti di grande qualità. Di nuovo, non è illegale. Ma discutibile lo è di sicuro. E poi c'è la quarta, che forse è la peggiore. La Hustle University è un gruppo di formazione organizzato di fatto come schema piramidale. Per chi non sapesse che cosa significa, uno schema piramidale è un'attività in cui il prodotto che si vende in realtà non è il prodotto stesso, ma la possibilità di fare soldi facendo entrare altre persone nello schema. Il prodotto è l'affiliazione stessa. Si paga un prezzo per poter entrare nello schema e poi si guadagna per affiliazione su ogni persona che si riesce a fare entrare nello schema tramite il nostro link o la nostra intercessione. Le persone che entrano poi a loro volta saranno incoraggiate a tirare dentro altre persone ancora allargando la base della piramide. Spesso, negli schemi più efficaci e fraudolenti, si guadagna anche sulle persone che entreranno poi da quelle fatte entrare da noi e così via. Nel caso di Tate uno dei modi più semplici e più incoraggiati per fare soldi con la sua accademia che doveva insegnarti a fare soldi era proprio quello di promuoverla sui social. È così che sono nate le clip spammate ovunque e diventate virali. Ci sono molti modi per mascherare gli schemi piramidali e renderli borderline oppure non farsi beccare dalle autorità. Ma sappiate che sono illegali in moltissimi paesi. Ecco, questo è come Tate ha fatto soldi. Notare come la sua carriera di atleta notevole e ammirevole tra l'altro non abbia quasi per nulla contribuito al suo patrimonio. E se chiedete a me questo non è un modello positivo di successo da seguire e anzi alimenta l'idea già abbastanza diffusa dai guru online che quello che conta è solo fare il grano. Pazienza se lo fai scammando con attività borderline illegali o con attività immorali. Chi se ne frega l'unica cosa che conta è che tu c'hai una Bugatti e gli altri no. Questo è un insegnamento terribile per i ragazzi più giovani di un cinismo devastante. Il secondo problema è che messaggi diffonde. Tate popolarizza idee e insegnamenti che pur motivanti per qualcuno lo vediamo al prossimo punto tendono ad alimentare rabbia frustrazione maschilismo complottismo e pseudoscienza. Sul maschilismo ci torniamo dopo perché dobbiamo approfondire parliamo intanto di tutto il resto. Tutta la retorica del matrix della società cattiva che vuole tenerti in basso e schiacciarti sembra uscita dal manuale del complottista di base. È il classico tipo di pensiero semplice che attecchisce sulle menti di persone a disagio in difficoltà che non sanno come uscire dai loro problemi. Si dipinge un mostro cattivo un mondo illusorio da cui siamo incatenati e ovviamente ci si presenta come l'unica soluzione l'unico spiraglio di luce nel tunnel di tenebre. Ma questa visione alimenta frustrazione ansia rabbia sociale sospetto sfiducia nelle autorità e nel mondo in generale. Per non parlare poi delle posizioni assurde di Tate su Putin sul covid sulla politica in generale sul declino della società occidentale sul fatto che la vita sia una guerra continua poi il supporto a Trump l'apparizione nel podcast di Alex Jones e via che andiamo. Il modo poi in cui Tate affronta i problemi psicologici la depressione e la fragilità umana sono qualcosa di rivoltante. Nega realtà psicologiche consolidate propone soluzioni e atteggiamenti che la ricerca scientifica dimostra essere inefficaci o persino dannosi come la spinta negativa e l'aggressività usata come motivazione. La questione depressione in particolare merita un minuto di approfondimento a parte. Quando Tate dice che la depressione non esiste non intende dire che il fenomeno depressivo è inesistente nel mondo. Già questo sarebbe grave. No, è molto peggio di così. Lo spiega bene nel confronto che ha fatto di recente con uno psicologo. Quello che vuole dire è che lui si è autoconvinto che la depressione non esista. Non esiste per lui nella sua mente e nel suo mondo. E quindi poiché lui non ci crede non potrà mai essere depresso. Al massimo sentirsi triste per un po'. Questa cosa è gravissima da dire per due motivi. Uno, perché è una completa puttanata pseudoscientifica. Tutta la sua teoria della mente che è come un computer in cui downloadi il software che decidi tu è una puttanata va oltre persino agli eccessi della PNL. Non è così che funziona il cervello e non è così che funziona la psicologia umana. Non basta non credere in una cosa perché questa non possa accadere purtroppo. Oltretutto l'autoinganno è un meccanismo pericoloso perché porta a degli eccessi. E poi due perché di fatto questo è victim blaming mascherato. Se tu dici che per te è impossibile essere depresso perché hai deciso che non ci credi implicitamente stai scaricando la colpa e la responsabilità della depressione su chi invece a tuo modo di vedere è troppo debole troppo stupido o troppo pieni o colone per fare come te per adottare la tua visione del mondo. Io ho trovato un modo per rendere per me impossibile la depressione tu non ci sei riuscito. L'idea che chi subisce o vive qualcosa di terribile o chi sta male debba comunque assumersene la responsabilità è tipica tra l'altro del mondo del self-help estremo non l'ha inventato Tate? Nel suo caso ha preso in passato anche la forma di uscite inaccettabili sulle vittime di stupro che cito dovrebbero assumersi almeno una parte di responsabilità e il paragone continua con se io lascio un milione di dollari davanti alla mia porta di casa fuori e me lo rubano la gente dirà è stato un irresponsabile. Lo capite vero che questo paragone è assurdo offensivo? uscire e andare a ballare e divertirsi non è un comportamento irresponsabile così come non lo è indossare degli abiti succinti non è irresponsabile flirtare con un ragazzo e poi decidere che non si vuole oltrepassare una certa linea non è irresponsabile bersi un drink non è irresponsabile cambiare idea questo non significa che nella vita non si debba stare attenti o attente e che non si debba imparare a valutare i rischi delle situazioni in cui ci si trova certo che si deve stare attenti e attente grazie ma il pensiero che Tate passa ribalta la responsabilità o parte di essa sulla vittima e alimenta la classica cazzata che tanti pensano del certo che se anche tu te ne vai in giro con la minigonna lo vedete come gioca sempre sul filo del rasoio di ciò che è totalmente disgustoso sta sempre lì lì strizza l'occhio in modo neanche tanto sottile a quel mondo di pensiero dicendo tutte queste cose Tate da credito a modi di pensare sbagliati ignora e scredita il valore di psicologi e psichiatri e propone un modello di salute mentale e di atteggiamento mentale del tutto distorto basato sull'autoinganno l'autoconvincimento e su quelle tre o quattro cose che lui sempre consiglia al solito saper fare a botte essere grossi e muscolosi fare soldi trovare donne essere iperaggressivi ipercompetitivi attaccare la vita e bla 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 terzo macro problema la sua modalità comunicativa Tate parla si esprime si muove in modo aggressivo muscolare netto usa sempre dei termini volutamente estremi e delle espressioni atte a scioccare degli atteggiamenti da duro da sborone tamarro da arrogante la sua sicurezza è totale non c'è mai un dubbio una domanda una riflessione che lo metta in difficoltà lui è il padrone assoluto del suo mondo è il capo sempre si presenta come infallibile potente inattaccabile quasi non fosse neanche umano la sua immagine il suo stile comunicativo rafforzano i messaggi problematici che vuole veicolare certo bisogna riconoscergli che è una persona abile con le parole poco ma sicuro eloquente ma le sue argomentazioni sono piene zeppe di errori di salti logici di fallace mezze verità stupidaggini passate per certezze assolute e questo è un tipico registro comunicativo da guru che scoraggia il dissenso e si spaccia per l'unica fonte della verità incontestabile e invincibile quindi per tornare alla domanda di partenza cosa fa di male Andrew Tate si arricchisce con business problematici e scam dice cose pericolose e sbagliate e le dice nel modo peggiore possibile e questo è di una gravità enorme soprattutto se fatto sulla scala globale su cui si sono diffusi i suoi contenuti e non può essere scusato per quelle due o tre cose positive che racconta i ragazzi il bilancio non regge e a proposito di questo tanti tanti di voi nei commenti mi hanno riportato che Andrew Tate li ha aiutati a sentirsi meglio a trovarsi un lavoro ad essere più disciplinati a rimettersi in forma ad avere più motivazione e ambizione nella vita a trovare magari il coraggio con le ragazze ad uscire da momenti difficili a livello psicologico non solo ma molti hanno insistito e fatto notare che questi effetti positivi li hanno avuti tantissimi ragazzi in giro per il mondo e io ve lo devo dire vi credo penso sia estremamente probabile che sia successo senza alcuna ironia e voglio dirlo in modo chiaro sono entusiasta dei vostri progressi sono felice che stiate meglio vi incoraggio a continuare a prendervi cura di voi e della vostra vita bravi davvero ascoltando i video di Tate e leggendo poi i vostri commenti appare evidente che Andrew Tate propone almeno tre consigli e esortazioni davvero utili e positive che tra l'altro mi trovano perfettamente d'accordo e sono queste 1. allenati rimettiti in forma cura il tuo corpo 2. riconosci il tuo valore sii ambizioso e datti da fare nella vita per raggiungere i tuoi obiettivi 3. accetta la fatica la difficoltà e riconosci il valore dell'impegno e dell'autodisciplina queste sono le cose positive che emergono e sono ottime non c'è alcun dubbio credo che chiunque concorderebbe non mi sorprende sapere che questi messaggi semplici ma concreti vi abbiano aiutato e abbiano prodotto buoni risultati per voi ma allora dove sta il problema? il problema è che questi semplici messaggi non sono gli unici che Tate veicola ci sono anche tutti gli altri che abbiamo appena visto e quelli che vedremo fra poco e che anche questi stessi messaggi positivi prendono molto rapidamente una piega estrema e aggressiva oltre che banalizzata e superficiale la giusta esortazione a mettersi in forma diventa ossessione per avere il fisico e soprattutto per le botte l'uomo deve sapere menare bisogna sempre essere pronti a difendersi il mondo del resto è una guerra continua il pericolo è ovunque giusto? l'invito ad essere ambiziosi diventa il voler fare a tutti i costi pacchi di soldi in qualunque modo fregandosene di etica morale eppure sfottendo certi percorsi vedi l'università per esempio che viene scoraggiata specie nelle facoltà che per Tate non sono utili per la società lo decide lui l'idea giusta di accettare la fatica e la disciplina diventa l'esaltare valori ultraconservatori l'insistere tutto sui concetti di colpa ordine volontà che sappiamo funzionare ben poco a livello psicologico e anzi che rischiano di peggiorare la situazione e ribadire a tutti i costi ruoli di genere rigidi e stereotipici torniamo anche su questo so che è un video lungo lunghissimo ma tenete duro sono temi importanti e complessi e poi mi avete chiesto di argomentare e io argomento il meccanismo comunque è tutto di esagerazione e banalizzazione Tate fornisce cito da un commento che mi ha colpito risposte semplici a domande complesse ve la ridico risposte semplici a domande complesse e questa è la singola frase più pericolosa della storia dell'umanità perché questo è ciò che fanno i guru e i manipolatori vi convincono che esistono formule semplici che tutto sia chiaro se lo guardate attraverso la loro lente partono da cose banali e condivisibili di buonsenso e poi pian piano esagerano estremizzano e uniformano il vostro pensiero e alla fine vi rincretiniscono e vi rendono degli adepti tra l'altro non è strano che i messaggi ultraconservatori ed estremisti e la mentalità un po' settaria diano anche buoni risultati di motivazione tutti i movimenti dittatoriali della storia hanno creato ondate di motivazione incredibili tutte le sette creano individui più sicuri di sé più attivi più capaci e se non fosse così non esisterebbero mai i leader carismatici e i loro gruppi di invasati perché l'invasamento funziona sul piano dei risultati a breve termine certo che funziona sapete quanta gente racconta di essere uscita dalla tossicodipendenza ad esempio grazie al leader al santone di turno quanti ottengono più sicurezza in se stessi e in conseguenza di ciò diventano più abili nel trovare uno o una partner o nel fare carriera è super comune il fatto quindi che voi abbiate ottenuto dei vantaggi dai messaggi motivazionali di Tate è credibile ci sta ma non basta a decretare che allora il suo personaggio sia positivo e da prendere a modello perché tra l'altro non esclude che avreste potuto ottenere quegli stessi risultati o anche meglio anche da altre fonti più sane senza tutto il resto della controversia e dei messaggi tossici buon per voi se siete stati meglio ma questo non dimostra che Tate sia una forza positiva nel mondo capite? dimostra semplicemente che eravate in difficoltà e il primo che vi ha dato una pacca virtuale sulla spalla e vi ha incitato a darvi da fare vi è servito e vi ha stregato dimostra che ci sono tanti ragazzi soprattutto maschi in difficoltà fragili con bassa autostima con problemi sociali e sentimentali che si aggrappano alla prima persona che dà loro attenzione e che dice loro che sì hanno un valore Tate è lì pronto a riempire per il proprio interesse un vuoto nelle vite di questi ragazzi e dopo averlo riempito si riempie anche le tasche e questa attenzione non è uguale a quello che fanno psicologi e formatori come anche il sottoscritto perché l'elemento manipolatorio è fortissimo non si sta rispondendo alle difficoltà le difficoltà vengono alimentate e sfruttate con questi contenuti si opera una sorta di lavaggio del cervello che produce degli adepti non delle persone autonome critiche indipendenti non è neanche strano che molte persone vedano nella figura e nella vita di Tate un obiettivo un modello da raggiungere pensateci se si sta vivendo una vita di disagio inconcludente problematica disordinata è evidente che ci sembra un'alternativa migliore la vita tamarra e sopra le righe di eccessi narcisisti di ultra successo a scapito degli altri di prevaricazione di controversia meglio essere i cattivi di successo della storia che i personaggi irrilevanti che muoiono a pagina 2 meglio ricacciare indietro le lacrime su una Bugatti mentre si manda affanculo il mondo che piangere in metropolitana ma questa è una falsa dicotomia non esistono solo gli eccessi non dovete scegliere tra miseria e prevaricazione l'alternativa alla tristezza non è l'esaltazione è la serenità l'alternativa alla povertà non sono quattro Bugatti da abbinare al colore delle vostre magliette comprate con strani business online è trovarsi un lavoro che vi soddisfa e vi permetta di vivere bene l'alternativa al caos non è la rigidità militarisca è la gestione di sé il controllo e la flessibilità l'amor proprio l'alternativa all'ansia alla paura al senso di fallimento e di oppressione non è imparare a minare e vivere perennemente sulla difensiva pensando che sia tutto una guerra è sviluppare consapevolezza di sé gentilezza e fiducia in noi stessi l'alternativa al disagio sociale non è il narcisismo è la comprensione di sé e degli altri l'alternativa a valori che non vi piacciono non è la guerra ideologica è il dibattito costruttivo ha fatto tanto bene è la versione Tateiana del ma ha fatto anche cose buone certo che ne ha fatte ne ha dette di cose positive ci mancherebbe non è mica satana ma tutti hanno fatto e detto anche cose buone comprese le persone peggiori della storia anche l'orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno la vita è complessa i problemi sono complessi le persone sono complesse Andrew Tate non è un personaggio monodimensionale ha certamente dei risvolti positivi ma ancora più evidenti ha dei risvolti molto negativi ha offerto un modello più accattivante di quello in cui tanti prima vivevano ma che rimane pessimo nel complesso e che ha delle alternative ben più efficaci e ben più sane è il bilancio di quello che uno fa e che uno dice dell'impatto che ha sul mondo che dovrebbe regolare il nostro giudizio perché altrimenti dovremmo anche seguire i consigli di Hitler per il buon babysitteraggio visto che era noto per essere bravissimo a tenere e giocare con i bambini e con gli animali invece io ho riscontrato tantissima visione a tunnel nei commenti molto egoismo anche gente che poiché ha avuto dei benefici personali allora scusa o ignora tutto il resto a me è utile quindi chi se ne frega del resto ma noi dobbiamo cercare dei modelli positivi delle soluzioni davvero sostenibili e positive per noi e per la società tutta non essere costretti a schivare le porcherie perché il faccione con gli occhiali da sole di Tate ci motiva quando andiamo in palestra o ci ha dato una svegliata quando eravamo giù il messaggio che io vorrei lasciarvi è che non ha senso andare a cercare perle di saggezza in mezzo alla merda ci si sporca non ha senso seguire una persona che frega che manipola gli altri solo perché in mezzo a quello che dice ci trovate anche qualcosa di buono e utile ogni tanto se alcune cose che Tate fa e dice sono pessime incoerenti ipocrite sbagliate schifose immorali problematiche voi non seguitelo neanche se altre cose che vi dice vi fanno comodo o vi piacciono quel qualcosa che vi serve potete prenderlo anche altrove da fonti sane senza alimentare fama e ricchezza di una persona in fondo spreggevole e arriviamo così a una delle più forti critiche che io ho mosso e che molti muovono ad Andrew Tate ed è il fatto che promuova dei valori maschilisti misogini e uno dei grandi classici dei suoi adepti è quello di rigirare la frittata chiedendo a muso duro spiegami allora cosa significa maschilismo tossico e trovate video in giro di gente che va a fare questa domanda a persone che non sanno come rispondere e questo dimostrerebbe che il maschilismo tossico non esiste e che Tate di sicuro non lo promuove cazzata significa solo che hanno tagliato le risposte sensate oppure hanno chiesto a gente impreparata o che non ci aveva sbatti di perdere tempo con loro comprensibilmente e allora adesso vi spiego io che cosa significa maschilismo tossico e come funziona partiamo dall'aggettivo ovviamente in questo caso tossico non è usato in senso letterale ma metaforico e significa pericoloso e inquinante per chi ce l'ha e per la società in generale per maschilismo tossico si intende l'estremizzazione pericolosa dei discorsi di genere al maschile tradizionalmente maschio e femmina vengono descritti e dipinti con dei ruoli e delle caratteristiche che vengono loro attribuite dalla società e dalla biologia spesso queste caratteristiche sono molto più degli stereotipi che delle realtà concrete ovviamente esistono delle differenze fra uomini e donne non ci sono dubbi ma gli stereotipi dipingono queste differenze come molto più nette e molto più significative di quanto non siano in realtà scienza alla mano il cambiamento sociale contemporaneo e la sensibilità moderna vogliono scardinare questi ruoli e questi stereotipi riportando al centro l'individuo in sé non il suo sesso il suo genere di appartenenza o la sua preferenza sessuale questa cosa può piacervi a me piace oppure no ma non è questo il punto e non c'entrano niente neanche gli estremismi di un certo femminismo radicale che a mio modo di vedere è altrettanto tossico il fatto che esistano estremismi in ogni direzione non giustifica comportamenti analoghi due torti non fanno una ragione comunque il maschilista tossico nasce in aperta opposizione a questo cambiamento sociale visto che c'è chi vuole rivedere o eliminare i ruoli e gli stereotipi di genere lui invece li esalta e li estremezza facciamo degli esempi lo stereotipo classico è che l'uomo sia quello che lavora e che porta a casa i soldi e allora diventa ossessione per il denaro a tutti i costi altro stereotipo è che l'uomo sia più stabile emotivamente e diventa rifiuto pseudo-scientifico dei disagi psicologici colpevolizzazione di emotività e fragilità ed esaltazione della rabbia e del pensiero positivo estremo lo stereotipo è che l'uomo sia forte fisicamente cosa che è vera e che difenda quindi la sua donna e allora diventa ossessione per il fisico e per la capacità di combattere lo stereotipo è che l'uomo prenda più decisioni e allora diventa che l'uomo è il capo e la donna deve obbedire o che lei comunque è di proprietà del maschio del marito e gli deve dare parte dei guadagni di OnlyFans come se fosse un affitto ma a voi pare normale sta roba lo stereotipo è che ci siano delle divisioni di ruoli e di attività in casa diventa tu vivi con un milionario che non ti fa mancare niente quindi il tuo ruolo è ubbidirmi e stare zitta quando te lo dico io o il prendere responsabilità personale per uno stupro che dicevamo prima o il fatto che la donna possa parlare con altri uomini o andare a ballare solo se le si dà il permesso lo stereotipo è che gli uomini preferiscano le ragazze più giovani ma che siano le donne a selezionare il partner e allora diventano teorie folli sul sexual market value che flirtano pericolosamente con i concetti red pill e incel di cui Tate non fa parte e anzi molti incel lo detestano pure ma pesca dallo stesso calderone di disagio succede lo stesso con gli stereotipi femminili e allora la donna diventa debole volubile sottomessa di proprietà indifesa interessata solo al denaro all'altezza all'aspetto fisico traditrice dissoluta eccetera 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 lo capite il meccanismo? è lo stesso che descrivevo prima sui messaggi positivi che diventano problematici in questo caso non sono neanche positivi ma c'è estremizzazione e banalizzazione aggressività verbale e superficialità che radicalizzano i messaggi si parte dagli stereotipi di genere classici che già di danni ne fanno non pochi e li si estremizza in risposta a chi vorrebbe superarli i video di Tate sono impregnati di questo maschilismo retrogrado e di visioni stereotipate e rigide dei ruoli di genere non basta c'è poi una dose massiccia di propaganda contro i gruppi LGBTQ transfobia contrasto al mondo femminista anche quello non estremo e questo più che dalle parole di Tate stesso emerge dai suoi follower da voi che sembrano avere delle idee piuttosto estreme e sconnesse anche sulle tematiche dei diritti sociali degli orientamenti sessuali e su queste che definiscono ideologie a caso nei commenti ho letto tirate davvero poco edificanti proprio su questi temi e arriviamo così al quinto gruppo una mole notevole di commenti ha menzionato da un lato la mia supposta invidia nei confronti di Tate e dall'altro l'ammirazione per il suo successo partiamo col dire che no non invidio la vita di Andrew Tate neanche per un secondo fare soldi in quel modo mi terrebbe sveglio la notte non potrei guardarmi allo specchio e la pressione assurda della controversia dei processi degli attacchi e dell'adorazione mi impedirebbe di essere sereno quindi no non invidio Andrew Tate e non scambierei la mia vita per la sua neanche per dieci minuti e so che per molti che ascoltano questo è incomprensibile non riescono proprio a capire la vita di Andrew Tate gli sembra talmente meravigliosa che non possono immaginare qualcuno che non vorrebbe viverla specificato questo parliamo adesso dell'adorazione nei confronti del suo successo delle sue macchine delle sue donne dei suoi soldi non c'è alcun dubbio che Tate sia un uomo famoso e ricco molto ricco sembra però che questa sua ricchezza di per sé nella mente di tanti sia una giustificazione per qualsiasi cosa lui è ricco e quindi può dire quello che vuole e chi lo critica è un fallito non sei d'accordo con Tate? di che colore è la tua Bugatti? prestatemi attenzione perché questo è un discorso cruciale che ritorna anche con i guru del make money nostrani se fai soldi hai ragione punto e qua ragazzi ascoltate bene le mie parole sul serio fare soldi o avere soldi di per sé non è una cosa negativa né positiva non ci dice assolutamente nulla di una persona tutto quello che conta è come li fai i soldi con quale attività facendo dicendo cosa su quale pubblico vendendo come il come non il quanti non si può separare la ricchezza dal modo in cui è stata ottenuta perché altrimenti dovremmo prendere poi a modello di persone di successo che ne so i figli di papà nati ricchi o i narcotrafficanti i mafiosi gli scammer di cripto quelli che scippano gli anziani fuori dalle poste e ripeto Tate i soldi li ha fatti da Pappone Digitale coi casinò col dropshipping di prodotti marci e con uno schema piramidale che inganna ragazzini promettendo loro di farli diventare ricchi e Alfa è uno sciacallo che ha costruito ricchezza sugli istinti più bassi e sulle persone più deboli e facili da manipolare volete modelli positivi di successo economico o lavorativo beh allora prendete grandi professionisti gente che ha fatto carriere stellari imprenditori che hanno costruito aziende meravigliose atleti artisti volontari attivisti persone che si sono arricchite dando valore al mondo e al mercato facendo delle cose buone giuste condivisibili positive costruttive Tate viene dipinto come un genio del marketing quando invece ha usato le tattiche più basilari e vecchie come il mondo della vendita becera sono le stesse cose che faceva Vanna Marchi usare la controversia allo stile aggressivo per vendere se a questo ci aggiungi la forza intrinseca dello schema piramidale che per sua natura è ingannevole ma efficacissimo le leve di marketing tipico il carisma e il potere dei social il gioco è fatto lo spettro di Vanna Marchi alleggia anche nelle uscite di diverse persone nei commenti sotto al mio video sul tenore del gli imbecilli devono essere fregati ancora una volta victim blaming e giustificazione di chi si approfitta dei deboli degli stupidi degli sprovveduti questo modo di pensare è una vergogna Tate non è il genio della lampada non ha inventato nulla a livello promozionale ha soltanto avuto la giusta mancanza di empatia e di dignità necessaria ad usare tutte le forme più pesanti e negative che esistono in quel campo Tate non è uno sprovveduto non è un ingenuo non è uno stupido è un opportunista una persona cinica che sa esattamente quello che sta facendo e questo ai miei occhi lo rende un essere umano ancora peggiore se fosse un idiota si potrebbe soprassedere con una scrollata di spalle invece è uno che ha costruito un impero di controversia scam e messaggi pericolosi con consapevolezza e progettualità e con questo ho affrontato tutte le critiche di base che mi sono arrivate nei commenti evito di prendere sul serio e commentare più di tanto l'orda di NPC privi di cervello che hanno spammato a raffica la frase della Bugatti di Tate o che mi hanno dato dello sfigato del segaiolo del geek del nerd come se poi essere geek o nerd fosse una cosa negativa vabbè vergine dai che un giorno vedrai anche tu la figa povero rosicone piagnucolone debole sensibilino disinformato brutto in particolare ce l'hanno con la mia faccia vabbè secco triste disagiato io sono realmente preoccupato per questi ragazzi non ci scherzo più di tanto perché dietro le loro sparate da leoni da tastiera si nasconde fragilità insicurezza tanta difficoltà che hanno trovato come gestire solo aggrappandosi all'ennesima figura dell'uomo forte e sicuro che dice loro com'è la realtà e come vivere la loro vita mi spiace menzione d'onore per i due o tre commenti sul fatto che Tate era un personaggio tossico ma adesso è cambiato si è redento ha capito i suoi errori si è convertito all'islam ed è un uomo nuovo ci vuole una impressionante ingenuità per bersi questa conversione sulla via di Damasco ma anche se volessimo crederci non sarebbe certo sufficiente a scusare tutti i comportamenti avuti prima basta mi fermo qua io lo so che questo video non basterà a convincere gli adepti di Tate di nulla così come non servirà particolarmente a chi era già critico nei suoi confronti ma spero invece che possa essere utile per chi sta nel mezzo per chi ha visto qualcosa ma magari non si è ancora formato o formata un'idea precisa per chi ci sta ragionando per chi ha dei dubbi in merito la mia opinione ve l'ho detta e ve l'ho argomentata a lungo per il resto sta a voi ragionare con la vostra testa e la vostra sensibilità io dal canto mio risponderò ancora nei commenti perché ci tengo ma cercherò di non ripetere all'infinito le cose che ho già spiegato in questo video fatemi comunque sapere che cosa ne pensate passo e chiudo grazie a tutti grazie a tutti